buongiorno in questi brevi discorsi sul narcisismo ho più volte sottolineato che per la psicanalisi il narcisista soffrirebbe di una fissazione alla fase orale questa fissazione nasce dalla mancanza di empatia nella madre l'atteggiamento seduttivo di tipo manipolativo deriva quindi dalla vulnerabilità e dal complesso di inferiorità al quale il narcisista reagisce con l'illusione onnipotente di poter controllare sottomettere l'altro per freud questo desiderio di sottomissione sarebbe un tentativo di negare la paura esorgizzando la potenza malefica dell'altro jung dal canto suo amplia un po questo discorso sul narcisismo aggiungendo che la strategia tipica del narcisista è quella di non voler svelare la propria identità per salvaguardare appunto la propria fragilità in sostanza il narcisista è abile nel vestire i panni del partner ideale e per questo sceglierebbe con cura le sue vittime che tendono tutte ad essere persone buona fede piuttosto empatiche con un certo spirito di sacrificio come è stato più volte ribadito tutte le azioni del narcisista mirano al raggiungimento di obiettivi di controllo e di dominio un narcisista generalmente non lascia il partner ma preferisce trascinare una relazione disimpegnata caratterizzata da continue fughe e continui ritorni l'errore che molte donne fanno è quello di riaccogliere il narciso sperando ogni volta che sia diverso e convincendosi che se lui torna e perché in fondo ci tiene ma queste speranze vengono puntualmente disattese anche nel caso migliore in cui lui o lei volesse seriamente riprovarci si tratta comunque di una persona con una struttura di personalità che la rende incapace di stare in una relazione e non appena svanisce l'entusiasmo del ritrovarsi iniziano i primi dubbi poi si passa alla noia arriva il senso di soffocamento e scatta un ulteriore allontanamento spesso i motivi del ritorno del narcisista sono dettati dalla solitudine oppure dalla mancanza di alternative e quindi dal bisogno di conferme in particolare dopo altre esperienze sentimentali che non sono andate nel modo spiegato nelle relazioni di lunga data il partner uomo o donna che sia viene spesso percepito come una base sicura e quindi come un sostituto simbolico della figura materna che dà stabilità una figura che accoglie e consola per questo se da un lato è indispensabile allo stesso tempo è poco eccitante questa figura è poco desiderata sessualmente tra l'altro essendo sempre disponibile è sentita come scontata dunque diventa soffocante il narcisista tende ad usare le persone e a considerarle come degli oggetti che soddisfano i suoi bisogni resta in una relazione fin tanto che può ricavarne qualche vantaggio compreso il sesso il ritorno di immagine oppure benefici economici un uomo con queste caratteristiche di personalità non butta mai via il numero di telefono di una donna perché potrebbe sempre servire all'inizio la storia con un narcisista è sempre romantica e passionale e piena di sorprese il narcisista ha molte iniziative e attenzioni ma non appena il rapporto si consolida e la vittima comincia a credere di aver trovato l'uomo perfetto all'improvviso e senza una vera motivazione lui si raffredda dirà dagli incontri diventa scontroso diventa di cattivo umore e inizia a criticare e quindi ad avanzare dei dubbi sui suoi sentimenti mentre all'inizio si dichiarava innamorato adesso si giustificherà dicendo che ha capito di non volere una storia dirà di non essere pronto ad impegnarsi e di voler stare da solo molte donne a questo punto si sentono già troppo coinvolte per tirarsi indietro e accettano una relazione discontinua in cui lui alterna momenti di tenerezza a momenti di freddezza gli anni passano ma l'amore non cresce e succede che le donne intrappolate in una relazione con un narciso si consolano pensando che se lui continua a tornare significa che è legato e che prova un sentimento importante anche se non vuole ammetterlo il problema risiede del fatto che il narciso avendo un'immagine interna degli altri come rifiutanti evita accuratamente ogni attaccamento per questa ragione il suo sentimento verso la compagna non cresce con il tempo ma rimane superficiale tuttavia malgrado la vacanza la vancanza di coinvolgimento lui continuerà a tornare fin tanto che lei non cambierà le regole del gioco mettendogli dei limiti e pretendendo un impegno ma un narcisista non lo freghi così per creare dipendenza affettiva il narcisista ha le sue strategie e tipicamente usa il bastone e la carota alterna le fughe ai momenti di dolcezza alterna le critiche più pungenti alle dichiarazioni d'amore e ai complimenti questi suoi comportamenti ambivalenti cosa fanno disorientano la partner o il partner che riceve un doppio messaggio sei importante per me non conti nulla per me ti desidero ardentemente non mi interessi più non ti voglio più il doppio messaggio insido nella relazione paralizza la compagna o il compagno che non sa più che cosa credere e quindi diventa dipendente così il narcisista mantiene il controllo della relazione e induce nel partner uno stato di impotenza psicologica oltre che uno stato di dipendenza le classiche strategie del narcisista sono rispondere ai messaggi con ore e ore di ritardo oppure non rispondere affatto in questo modo fa capire alla compagna chi detta le regole nella relazione inoltre lei non deve sapere quanto lui la consideri attraente e desiderabile altrimenti se ne potrebbe approfittare per questa ragione sono frequenti le critiche feroci anche sulla sessualità o sull'aspetto fisico del partner queste critiche in realtà significano l'esatto contrario lui sente che si sente privo di difese rispetto alle attrattive della sua donna e desidera convincere lei e se stesso di non provare nulla il narcisista sa che dicendo alla partner quello che lei ha bisogno di sentirsi dire sarà perdonato basta pronunciare le parole giuste e lei abbandonerà ogni riserva e lo accoglierà a braccia aperte se le promesse e le paroline dolci non funzionano il narciso giocherà la sua ultima carta la carta della debolezza cercherà di impietosire la partner mostrandosi debole e smarrito le parlerà dei suoi problemi si mostrerà fragile e bisognoso di una guida si comporterà insomma come un bambino piccolo con la madre facendole capire che ha bisogno di lei morale della storia scappate e fatevi aiutare per salvarvi la vita bisogna scappare e non girarsi indietro perché il narcisista non è disposto a mettersi in discussione piuttosto chi è vittima di relazioni di questo tipo dovrebbe rivolgersi ad un bravo psicoterapeuta per capire come mai tende a rimanere intrappolata in rapporti insoddisfacenti e disfunzionali che hanno tutti però qualcosa in comune la soluzione come al solito consiste nello sviluppare la propria autostima e la propria individualità senza appoggiarsi troppo sugli altri bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube per essere informati sui nuovi video di psicologia potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata oppure consulenze telefoniche per cui vi suggerisco di contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 specificando il nome, il cognome e gli orari preferiti per la consulenza in bocca al lupo e arrivederci